Musica Buongiorno, buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV2000. Ecco i nostri titoli. Ancora minacce dalla Corea del Nord. Trump manda i caccia al confine. Pechino avverte, non è un gioco. A luglio cresce il numero degli occupati. 28 milioni, ma è così tanti dal 2008. Aumenta anche il tasso di inflazione. I sindacati propongono un paniere diverso per la terza età. Caro babysitter, in attesa che riaprano le scuole, le famiglie sono in difficoltà per i prezzi alle stelle dell'etate. Ed ancora il Papa presto in Colombia. La capitale, Bogotà e l'intero paese si preparano ad accoglierlo. Venti di guerra, dicevamo in Asia. La Corea del Nord è pronta ad effettuare il suo sesto test nucleare. Donald Trump reagisce inviando caccia americani sul confine tra le due Coree Pyongyang. Intanto minaccia il Giappone e Tokyo si prepara ad un aumento record per il bilancio della difesa. Il servizio di Marco Bergamaschi. La Corea del Nord è pronta ad effettuare il sesto test nucleare in qualsiasi momento. È la valutazione espressa dal vice ministro della difesa sudcoreano So Chusok in un'audizione parlamentare dedicata al lancio del missile a medio raggio di martedì deciso da Pyongyang che ha sorvolato il Giappone. C'è la possibilità di ulteriori provocazioni strategiche, ha aggiunto So, comprensive sia di nuovi missili balistici sia del sesto test nucleare. Seul, spiega, il ministero della difesa sta mettendo a punto una riforma delle forze armate per contenere la minaccia nordcoreana. Continuano febbrili i contatti diplomatici per argenare la crisi. A Washington si sono incontrati ribadendo l'alleanza militare il ministro della difesa sudcoreano Song Yun-mo e il collega statunitense Mattis che ieri aveva smentito le parole di Trump su Twitter spiegando che gli Stati Uniti non sono mai a corto di soluzioni diplomatiche. Si sono intanto concluse le esercitazioni militari congiunte USA, Corea del Sud con aerei di entrambi gli stati. In una telefonata i capi delle diplomazie russe e statunitense, Lavrov e Tillerson, hanno definito una grave violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU il lancio missilistico di Pyongyang. La Cina, fa sapere Pechino, non permetterà una situazione di guerra o caos alle proprie porte. Pyongyang però lancia un minaccioso avvertimento a Tokyo per l'alleanza con gli Stati Uniti a andare incontro all'autodistruzione. In risposta alle minacce, il Ministero della Difesa giapponese ha chiesto un aumento record del 2,5% del proprio bilancio. Rientriamo in Italia. Il Governo propone il piano per le pensioni per i giovani che rientrano interamente nel sistema contributivo che hanno iniziato a versare i contributi a partire da gennaio 1996 e che sono alle prese con carriere discontinue. L'ipotesi portata al tavolo con i sindacati è che potrebbero andare in pensione prima dei 70 anni e con 20 anni di contributi. Uscirebbero con un assegno minimo di circa 650-680 euro. Sostanzialmente favorevoli sindacati che sono insoddisfatti sulla questione del meccanismo automatico dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. A luglio il tasso di disoccupazione sale all'11,3% con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno. Lo rileva l'Istat in crescita di 0,3 punti e anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 35,5%. Nell'ultimo bimestre però il numero di occupati ha superato il livello di 23 milioni di unità. a soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell'inizio della lunga crisi. Ad agosto sale anche il tasso di inflazione fino all'1,2%. Ma i prodotti che misurano il costo della vita non incidono allo stesso modo su tutte le fasce d'età. Per questo i sindacati chiedono per gli anziani un'inflazione ad hoc. Ci spiega Giuseppe Caporasso. Più latte, bollette, visite mediche, meno tablet, tv al plasma e cellulari. Un paniere dedicato agli anziani e alle loro esigenze per calcolare la rivalutazione delle pensioni da troppi anni bloccata. Se ne parlerà nei prossimi giorni nell'incontro tra sindacati e governo. L'obiettivo di CGL, Cislo Will, in vista di una crescita dell'inflazione e di una revisione e rialzo degli assegni previdenziali. Quindi rivalutazione ma anche pesare l'inflazione a misura d'anziano. Non prendere in considerazione oggetti tecnologici, viaggi, cellulare e computer ma tarare l'aumento delle pensioni in base al rialzo di pane, frutta fresca, yogurt, verdure, bollette, visite mediche, farmaci. C'è una serie di prodotti acquistati con frequenza dagli stessi anziani. Altrimenti il rischio reale è una diminuzione crescente come già sta avvenendo del potere di acquisto dei pensionati. Noi riteniamo che come l'Istat ogni anno rivede la composizione del paniere che quest'anno ha immesso prodotti come gli smartwatch, l'action camera, il soundbar, le centrifughe e quant'altro dovrebbe pensare a inserire anche, a dare un altro peso a quelle che sono invece le abitudini di consumo degli anziani che sono sicuramente diverse da quelle dei giovani e dare un peso specifico diverso alle varie voci che compongono l'intero paniere. Quali sono le voci più importanti per i pensionati? Le voci più importanti per i pensionati sono innanzitutto la cura della persona, della salute, l'abitazione, le spese di trasporto e anche le spese per le attività ricreative. Gli anziani forse spendono meno per le palestre, forse non hanno il soundbar, forse non hanno lo smartwatch e quindi dare un peso diverso a un paniere che rispetti in più quella che ha anche l'età anagrafica delle persone. La cronaca, ho avuto paura ma non nutro rancore e ne voglio vendetta. Lo avrebbe detto l'Eritreo accoltellato due notti fa a Roma durante l'assedio al presidio umanitario di Via del Frantoio alla periferia di Roma, al Tiburtino Terzo. L'uomo ricoverato in ospedale con 30 giorni di prognosi è stato ascoltato ieri dai carabinieri. Non bisogna scatenare guerre tra poveri, ha ammonito la sindaca Raggi. Ci spostiamo nelle Marche. Oggi è arrivato il Cardinal Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della CEI, in viaggio tra le diocesi colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Già, ecco, già lo vediamo. Il nostro inviato Fabio Bolzetta. Ti vediamo a Camerino. Buongiorno Fabio, raccontaci tutto. È così, Clara. Buongiorno a tutti voi. In diretta da Camerino, dopo Pieve Torina e Visso, anche questa cittadina marchigiana, il cui centro storico è stato aggredito dal terremoto, attende la visita del presidente della conferenza episcopale italiana. Siamo a 50 metri dal centro storico e proprio da questa porta, come ci hanno confermato in Comune, dove siamo stati pochi minuti fa. lo attendiamo tra qualche, veramente, tra qualche minuto. Vedete l'immagine che abbiamo registrato, perché lo ricordiamo? Anche questa è l'ennesima zona rossa e la nuova visita dell'arcivescovo di Perugia, della Cardinal Bassetti, in un'altra zona rossa. Uno sguardo alla città, accompagnato dal sindaco e dall'arcivescovo diocesano, Monsignor Brugnaro, così in piazza Cavour, una città che cerca di rialzarsi. Visiterà poi anche la Nuova Curia, la vicinanza della Chiesa, concreta alla cittadina e a questa comunità. Secondo giorno di visita. Ieri, infatti, si era conclusa con la celebrazione eucaristica nella Chiesa, l'unica, lo ricordiamo, di Pescara del Tronto, frutto della carità. Nell'omelia che abbiamo seguito, il Cardinale ha ricordato le emozioni e i ricordi di una giornata così intensa. Pongo nell'eucaristia i sacrifici e le vostre speranze, ha detto ringraziando poi i tantissimi volontari. Aveva concluso quella giornata, cominciata da matrice, confidando agli amministratori locali, non riesco ad esprimere a parole quello che io ho visto oggi. Sono immagini, persone, incontri che si possono soltanto interiorizzare. Così è stato, infatti, ad Amatrice e a Cumuli quando è cominciato questo pellegrinaggio tra le zone ferite dalla sisma, incontrando famiglie in tante casette, ma anche imprenditori e piccole realtà economiche che hanno cercato la propria rinascita. Spostandosi poi a Pescara del Tronto, l'ingresso nella zona rossa e poi quell'immagine così commovente nel silenzio totale di un centro storico presidiato delle persone che lo accompagnavano quando ha posto la croce con le mani su ogni volto di bambini, donne e uomini che avevano perso la vita proprio a causa del terremoto un anno fa e nel parco che era stato il luogo che aveva accolto inizialmente le salme. Oggi continua questo secondo giorno, che si concluderà questa sera dopo Camerino. Infatti sarà la volta di San Severino Marche, la visita anche ad un santuario mariano, quello dei Lumi, e poi ancora a Tolentino e a Macerata. Sarà accompagnato dal Vescovo Monsignore Nazareno Marconi e si concluderà con un omaggio alla Madonna della Misericordia, patrona della Diocesi, al patrono San Giuliano di tutta la città di Macerata. Conclusione eucaristica. Anche in questo caso la voglia quindi di portare nella messa tante richieste delle persone che qui ha incontrato, richieste e soprattutto speranze per il futuro di questa comunità, la cui presenza del Cardinal Bassetti ha voluto dimostrare ancora una volta la vicinanza della Chiesa, ieri come oggi, a distanza di un anno dal sisma. Per ora da Camerino è tutto. Grazie allora, grazie al nostro Fabio Bolzetta. Noi ci spostiamo negli Stati Uniti, è salito da almeno 37 morti il bilancio delle vittime dell'uragano Harvey in Texas. Lo afferma la CNN, la tempesta continua la sua marcia verso l'est, verso la Louisiana, provocando allagamenti e devastazioni. A rischio di esplosione, un'azienda di prodotti chimici a Crosby, ancora in Texas. In seguito al passaggio della tempesta drammatica e le storie che arrivano, sterminata un'intera famiglia a perdere la vita, i quattro nipoti dell'unico superstite, Sammy Saldiver e i bisnonni dei piccoli. I danni causati in Texas sono pari a 58 miliardi di dollari. Rientriamo in Italia, vacanze terminate, si torna al lavoro, ma con le scuole ancora chiuse tanti genitori sono costretti a rivolgersi alle baby sister per la gestione dei più piccoli, con notevole esborso per le casse familiari. Il servizio è di Alessandra Camarca. Cara baby sitter, ma quanto mi costi? Secondo il rapporto annuale di Yupis, una giovane azienda specializzata nel settore del baby sitting, le tariffe orarie dell'etate sono letteralmente decollate, facendo registrare in un anno aumenti del 10%. La baby sitter più cara lavora in Liguria. Qui per un'ora, mamma e papà spendono in media 9,21 euro al netto delle tasse. Tra le regioni più costose si trovano la Valle d'Aosta con 9 euro all'ora e la Lombardia con 8,83 euro. Una spesa di quasi 50 centesimi più alta rispetto alla media oraria nazionale ferma a 8,34 euro. Alla base della crescita della domanda di baby sitter, le difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare, motivi che hanno determinato l'incremento record della tariffa media oraria nazionale salita da 7,46 euro del 2016 agli 8,5 euro odierni. Dalla Valle d'Aosta all'Emilia Romagna le famiglie spendono più della media italiana, mentre nel centro-sud solo la Toscana ha una tariffa superiore a 8,34 euro. Non bastano ad aiutare le famiglie agli aiuti statali come il bonus bebè o il bonus mamma, incentivi giudicati insufficienti e non risolutivi. L'uso della baby sitter ormai non è richiesto solo per qualche ora per un'uscita alla sera per un cinema o una cena tra i venitori. In realtà si estende a tempi molto più lunghi e questo influisce moltissimo sul budget familiare perché comunque come dice giustamente l'articolo la baby sitter non viene più chiesto solo di assistere i bambini ma per il protrassi del lungo tempo con cui trascorrono le ore c'è bisogno anche di un intervento di tipo educativo. Ancora in Asia sarebbero oltre 18.000 i civili della minoranza musulmana dei Rohingya in fuga dopo gli scontri dei giorni scorsi in cui sono morte almeno 89 persone l'esercito del Myanmar ha aperto il fuoco contro migliaia di persone in fuga dai villaggi verso il Bangladesh in cerca di salvezza lo riporta all'agenzia France Press i Rohingya sono considerati dai cittadini birmani come immigrati clandestini bengalesi Papa Francesco che ha lanciato diversi appelli in loro favore l'ultimo domenica scorsa all'Angelus sarà in Birmania a novembre e si avvicina anche la data della partenza del Papa per la Colombia dove è atteso la prossima settimana andiamo quindi a Bogotà la capitale cui dedicherà tutta l'intensa giornata del 7 settembre durante la quale tra i vari impegni incontrerà i giovani in Plaza de Bolivar e i vescovi colombiani il mondo della cultura e il direttivo del Celaman Luigi Ferraiola sarà ricevuto con un gioioso murale Savilla Vicenzi o Papa Francesco in Colombia mentre a Bogotà lo accoglierà il parco intitolato all'eroe della patria Simon Bolivar è tutto pronto nel paese latinoamericano per la visita del pontefice dalla 6 all'11 settembre il primo passo di un rinnovato cammino di pace come recita il tema del viaggio tutto è pronto i nostri cuori sono pronti abbiamo completato l'organizzazione ci sono da sistemare dei piccoli dettagli come sempre alla fine di un'organizzazione ma possiamo dire al Papa come il presidente colombiano gli ha già detto che la Colombia è pronta a riceverlo la Colombia vuole che venga che sia fra noi e che ci riempia i nostri cuori con Gesù cioè con entusiasmo e gioia per le strade di Bogotà e Villa Vicenzi o le prime due tappe del viaggio sono già comparsi i souvenir della visita mentre vengono completati i preparativi per l'accoglienza indaffaratissimi gli operai che lavorano nel parco Simon Bolivar della capitale dove Francesco celebrerà la prima grande missa con i fideli Sua Santità sarà con noi per 4 giorni circa 92 ore Sua Santità sarà con noi per 4 giorni per circa 92 ore e 13 importanti eventi e sarà accolto da un numero enorme di colombiani almeno 4 milioni e mezzo di persone era il nostro ultimo servizio prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.30 restate con noi buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti